Nelle Marche è attiva da anni una rete antiviolenza di cui il sindacato fa parte. Noi vogliamo essere terminali nei luoghi di lavoro, soprattutto, ma anche nelle nostre comunità territoriali per riconoscere ogni forma di violenza. Il lavoro è fondamentale per l'emancipazione della donna, per la sua libertà, per anche fuoriuscire da percorsi di violenza, perché il lavoro dà autonomia, valorizza i talenti, consente alle donne di mettere a frutto le loro conoscenze e di attivare le loro capacità. Però dobbiamo fare molta attenzione, perché anche il luogo di lavoro può trasformarsi invece in un luogo di discriminazione. E questo è il terreno di impegno del sindacato, quindi far sì che sempre più donne possano avere un lavoro di qualità, che possa renderle autonome, libere, ma anche fare attenzione a che il luogo di lavoro non sia un luogo di discriminazione e di violenza.